Enciclopedia delle storie Il libro di oggi è Leo Frobenius Storia della civiltà africana Milano Adelphi 2013 Nell'articolo in descrizione un link alle opere di Frobenius consultabili online con l'open library internet archive Secondo il padre del diffusionismo Leo Frobenius in storia della civiltà africana le culture del neolitico africano non influenzarono soltanto i greci ma anche molti altri popoli europei Lo studioso berlinese fu il primo a sfatare il mito del buon selvaggio attribuito ai popoli dell'Africa e a ipotizzare una continuità culturale tra popoli apparentemente molto distanti tra loro come Etruschi e Yoruba della Nigeria Ne abbiamo parlato in diversi podcast su questo canale Leo Frobenius è stato un antropologo un esploratore un archeologo padre del diffusionismo teoria che si oppose e sviluppò l'evoluzionismo darwiniano viaggiò molto dal Fezzan al Capo dal Sudan al deserto del Kalahari e diede un contributo molto importante alla conoscenza dei reperti degli oggetti di culto alla riproduzione delle pitture rupestri africane raccolse anche moltissime storie orali come fiabe, miti, leggende che poi ripubblicò nei 12 volumi del suo Atlantis l'opera in cui tutte queste esperienze scoperte si sono presentate in una sorta di summa fu proprio la storia della civiltà africana un testo che apparve nel 1933 opera monumentale testo chiave per il diffusionismo novecentesco influenzò autori come Cesare Pavese Elia Scanetti e Giorgio de Santigliana va ricordato che i primi sostenitori della Negritude come Senghor riconobbero nella storia di Frobenius la più grandiosa rivendicazione da parte di uno studioso occidentale di ciò che è stata nelle sue variegate manifestazioni la civiltà africana dello stesso autore segnaliamo in descrizione anche le fiabe del Cordofan sempre edizione di Milano Adelphi 1997 per seguire l'enciclopedia delle storie vai al sito federicoberti.it e naviga attraverso le tag Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti